Nuovo arrivo su via Cassia, ecco Lillo, Lillo, è lui Lillo, ciao Lillo, questa è una cosa bellissima, ciao Lillo, nuovo arrivo, nuovo arrivo, sputa, 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 no no no, sputa, sputa, sputa. Un pezzettino di carta, Lillo, Lillo stai seduto, stai seduto, seduto, bravo Lillo, bravo, e abbiamo conosciuto Lillo, evviva, ti ringrazio.